che potremmo andare a ritirare una giocca che sarebbe morta ah si ma dico domani... ah perché... si adesso scusami è ancora alle 11 e mezza sei carico? no mi auguro questa cadina che non sia una cagata sai papà ehi mi hai detto che è una figata ti indica un punto di lancio per il team classico? si va bene va bene andiamo da banca? come prima? si 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 da banca mezza io Fante non vedo la dipendermi da 5 e giocare a demon solo io giuro stavo giocando prima ti piacciono quei giochi? c'ho una scimmia 3 indecente non credevo eh bello 3 abbiamo detto da banca sei ore l'ho detto attenzione sono morto io il numero del team è diventato un bersaglio ricercato sono morto raga beh se te non ascolti non è che devi dar la colpa a me assumiti le tue responsabilità nooo eh ha messo dura dov'è? eh qua boh in movimento in casa in casa si in casa fremmono andare in casa sei in casa torri si ero morto oh patate va adesso mi carpano appena trigon調 e than potresti guardare andiamo in camera a guardare in attimità non c***o alto a destra ok ok vabbè ti erano solo france di passante ho visto il gameplay bellissimo assurdo ma si nota la differenza tra play 4 e play 5 eh è molto più fluido sicuramente è super fluido poi c'è la grafica della madonna il 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 contratto sciacallo, affermativo. Vabbè, certo. No, più poter... No, prendi rifornimento, prendi rifornimento. Ci vado con l'elicottero. Penso che noi ci vado con l'elicottero e andremo subito gratis. Segnalo un contratto rifornimento. Spera, capito, prendiamo... Pippo ci... Il discorso è... Eh, ho sopra, l'ha vista io, Pippo. Ci pensiamo altri dieci minuti e ci fanno anche mia madre, spagna. Pippo, non mi piace come ti stai comportando. Non mi piace come ti stai comportando, Pippo. Perché mandi me? Perché ho paura che poi ti uccidano a te, Spesso, ora, la testa bassa. Ragazzi, siamo... Stiamo stanto a metri, la distanza è la stessa. No, mi prendo io la cassa... Il giubbottone. No, frey, mi prendo il giubbottone io. Guardate, li metto qua, Pippo. Denaro, affermativo. No, 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 vendo io la cassa. Che posso fare? Voglio... No, 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 no. E' di alto di te, io mi vendo la cassa. Dai, fan, ti ho... Allora, stai capo la cassa. Siamo nella zona sicura. Oh, no, no, no. No, no, no. Ahahahahahahahahahahahahahaha. E' mia! E' tutto la magra! Uuuuh! La mia cassa l'ho presa io! Mi fanno... Mi fanno... Guarda come vi distruggono tra un minuto. è fatto bene è fatto bene volevi rubargliela grazie fronzo mancagato mezzo qua dentro mezzo 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 te rischiando veramente tanto mezzo da quando gioco con Pippo di acquisto ho paura ma non cambiare discorso riposizionamento prendiamo l'oddy? no ragazzo avanzate alla prossima area e mettete in sicurezza il perimetro però mi sono preso una piastra mi compro l'autorrest stai dicendo? si bravo mezzo ma cazzo ti viene a fregare l'oddy piatti auto-rest mezzo c'è la proboscide dura sta esaltando qui ci sono soldi prendi un giro di piastre sono a zero anche due giri di piastre tanto dobbiamo fightare ora dipende anche io ripendo facciamo facciamo due piastre non posso non posso qua c'è emozioni ho marcato dell'equipaggiamento facciamo sto buscando ma dove? dove c'è l'elicottero altra terra sorpresa che gli abbiamo fatto a sti qua ci ho buttato al centro ci ho buttato dal centro andiamo la merda dove è andato fre? è morto è morto si è buttati perché ho visto un cadavere andare giù cioè qui tattoo è veramente il numero uno c'è un lanciatore qui io prenderei ah sì dai qua sopra facciamolo ho il fucile a pompa come si chiama? oh fanti io devo prendere fantasma assolutamente devo ricordarmi perché sbaglio sempre mi sono dimenticato che sono in un appartamento al primo lancio di ocampano mi dimentico sempre ripetere fantasma ma secondo voi è un ruolo così forte? lo sento dai vicini sì no buo dipende che pazzo sei ma te stai cusciando pipo ma se voi ce ne avete fatti due munizioncine per il cercozzo? mi serve mi servono di chi? guido io va bene penso io sono al torri ce ne ho venti arrivo a prendere troppo pipo obiettivo principale raggiunto informazioni tattiche in sicurezza prendi la taglia pipo torri prendi la te ce l'ho già la troppo sulla macchina qui puoi coprire io non guardo a pregunte che cazzo è la taglia? che cazzo è la taglia? contratto taglia marcato andiamo prenderla bersaglio taglia identificato puoi coprire questa taglia raga andiamo a prendere l'autoressa allo shop questo è fondamentale ok mi guido io non ce l'abbiamo solito l'autoressa non so io questo è una macchina ad arrivare ho lasciato i soldi qua andiamo a farci la piastra andiamo a farci la taglia che ha in open eh sì sì esatto ah dici che la stessa sono craccato eh la dietro la collina mi sposto dietro la collina si si sono loro è perché sono avvicinati a noi sono dentro la collina ragazzi sono sicuramente il punto sono sotto no c'era uno sulle oh a terra fatto ma c'è altra gente eh sì 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 dove no è bravissimi fra un'altra una è dentro all'angare e uno è qua sopra un'altra e uno è qua sopra a terra va dietro eh attacco a grappolo alleato in arrivo non me lo conferma mincazzo minaccia rossa bravo si da minaccia rossa perché Torri è lì Torri occhio no ma perché sta no siamo in quattro diocarlo deve entrare da solo c'hai mezza dove ho qua io eh con due lungui dove c'è amico prendiamo coperti no vabbè e non lo so una a terra in open eh dall'altro hangar eh che fai? sono qua sotto dammi una botta dammi una botta dammi una botta pipì ci penso io una a terra è qua eh l'ho messo qua a terra non è niente siamo uniti eh quell'altro fai quello fingato ad arancione ah fai mi dispiace non c'è nessuno dentro sono solo io ma sopra ma fatti ma non sono qua fino davanti a voi fai da l'angra arancione dai fai da l'angra arancione dai oh l'avete visto l'avete visto è sopra è sopra è sopra è sopra è porco due sopra dal vostro sopra dal vostro dal vostro hangar occhio mezza te lo trovi sopra appena esci da lì no mi sacca uno comunque mi sacca uno fre non ho visto la killcam però mi sacca uno perchè io ne ho fatti tre ne ho fatti tre io proprio sopra della collinetta almeno quando mi ha ucciso me era lì poi magari si è spostato non lo so c'è un altro pp bravi tacca avete i soldi raga non ti aiuto a restare così c'è venire la roba veloce veloce nooo si arriva il gas andiamo a far veloci andiamo a far veloci davvero pp ah faccio eh lo so ne resto uno io io non giro di piazzi non so a far sì sennò io sono casa di piazzi comunque non so a far va ah tu hai il bombardamento va bene ugual Sì No Secondo me Marco devi prendere un OB Ho preso la res Quanto è forte il Kark ragazzi Madonna Sono andati oltre Mi hanno fatto una cagata Togli ping No, quelli di mezza Non la da l'autobus Vabbè oltre Non so dove siano andati Spostarsi in questo punto Non importa Eccolo Ragazzi tiro il bombardamento perchè qua siamo in una merda A terra uno Tagliamo Uno sono eliminato Ricky Siamo da lati diversi Sto arrivando Sto facendo il giro da dietro È morto è morto ragazzi In movimento movimento Dove cazzo è? È lì Ti ho messo il pin blu Marco E' lì Non lo vedo Franco Dall'autobus Dall'autobus Sto rì Bravo 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 Tira su mezza e io te lo squippo Vai la perle dura Ce la farai Dov'è mezza? Che non lo vedo? Ma non lo vedi Ti sono Ti sono Certo Ti ho visto che è morto Quindi vorrei morire dopo di te Gassi in arrivo Zona sicura riposizionata Mi sto venendo sempre più conto che non lo uso mai Dio caro il cazzo di sensore Io fanti È camoroso Serve solo all'inizio guarda Tanto ho visto tutti i fantasma No Belin è utilissimo È utilissimo Chi spari? Mi muovo Un negro E' dietro la tettoglia Oh c'è un cecchino a secondo piano Fermi È andato via Secondo piano a casa rosa Vittato Vendiamo da destra O da sinistra Scegliamo un lato Nemico in discesa raga Guardate i cadaveri di prima A terra fatto fatto Ma vaffanculo mi hai rubata Penso di non aver mancato un colpo Sono stato veramente bravo Si fanti È sempre da casa rosa Non ho capito Ho perso la condizione È dietro quelle rocce lì Eccolo Casa rosa di nuovo Casa rosa di nuovo Ho visto Ho visto Tato Dove? Casa rosa secondo piano a destra Sì Sto scendendo Stai messi bene raga qua in sto posto Dobbiamo solo tenere la posizione Dobbiamo prenderci Eh la taglia sarebbe comoda Piutt'altro serve anche una bella casa Pippo Siamo in quel mondo C'è l'edicotto No in open così In open così In open così è un casino Come casino Pippo Ho già tenato uno Bravo mezza Occhio a stare in open Bersaglio taglia Contrasegnato Ucciderlo Fatemi ci arriviamo sopra No è morto è morto Ma è già morto Pippo Me l'ha confermato È caduto da 100 metri Andiamo in casa La casa qua in cui sono io è una merda Non ci credo Ma non c'è chi nato Dove? No non c'è chi nato Cassi in movimento Nuova zona sicura e individuale Bersaglio taglia eliminato Ben fatto La casa qua è buona però l'ha tenuta È un casino tenerla Io c'è i cortellini da lancio Ancora Vabbè sciottala Arriva uno da fino là eh Da quelle case là È cascato un lancio qua in mezzo alla strada eh A me mi vedono raga Perché non c'ho Ma tu lo sei fatto anche te Pippo Car Da casa gialla sparano qua sopra i garage raga Da casa gialla ai garage Capito? Fanti Pink arancione Sparano ai garage qua sopra Quindi abbiamo gente qua sopra Io vengo da te ma non c'ho pinetti per sparare NEMICO IN DISCESA NELL'AREA OPERATIVA Oh guarda Spoltarsi in questo punto Facciamo una cassa In movimento Annullare Cassi in appiccinamento Arriva una macchina Va a Lodi Marco fai di avanzare eh Non sparargli No 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 Ok finito Non sono arrivato Lasciamo perdere Arrivano arrivano Sono qua fuori Sì 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 Sono qua fuori Occhio mezza con la finestra Con la finestra lì perché riescono a farti Sono dal lato dei garage eh proprio Pippo copri Te li devi far testi qua Ci entrano No 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 Stai dentro Se entrano te li devi far te Comunque mi sa che l'hanno ammazzato quello che era qua sotto Perché l'ho sentito un urlo Sì pure morto qua te È vero Era da casa gialla quello che l'ha ucciso Occhio Pippo che ti spunta il fucile eh Eh devi stare un pochino... Bravo così Ci sono io Pippo a darti la mano Sì 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 è qua fuori è qua fuori lo sento Cassi in arrivo Alla nuova zona sicura Bella Pippo ti ho inventato Anche la gente eh Tanti qua è una merda Lo so Ora dove facciamo Io crosserei da qua Crosserei da destra Davanti 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 Dove? Già visto Oltre il fiume Infatti c'è tipo da solo eh Lo finito Dove? No Lo finito Ah sì di arrivo Saliamo qua a destra Saliamo qua a destra Ancora due Pippo ha uno in atterrato Sì, sì, è giusto Sicuramente si è autoresta A destra, alla vostra sinistra, Fanti La vostra sinistra sono Stanno crossando con voi Pippo ti spuntano a sinistra Sti qua davanti mi preoccupano Ti trovi in open a sinistra, Pippo Qua davanti non c'è nessuno Ecco qua Uno fatto E' là l'altro, porco, due Fatti C'è Kilo davanti a te, Pippo Bravissimo, l'hai visto? Sto sparando a me, sto sparando a me No, bello interessata No, 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 porco, due In open a destra In open a destra Io mi resto, io mi resto, io mi resto No, chi mi ha fatto? Che canto, Dio Sì, salvo io da lì Guarda che te puoi stare anche al chiuso così Tutti nella zona sicura Fre, col car, Pippo, col car, dai No, ssh, ssh Col car, bravo C'è un team dietro, Fre Devi farlo, eh Devi farlo, eh Dio, ci abbiamo un team qua dietro Dovete farvi quelli lì Non dovete fare interi quelli in safe, ragazzi Pippo, gli altri, gli altri, gli altri Sono qua dietro, sono qua dietro Ok C'è tutto a destra, Pippo Se ti alzi ti vede Sinistra Dietro di sinistra, sinistra Di, eh Poi colping, eh? No, metti il tiro automatico Non usare il car, Pippo Mettite l'automatico Ne manca uno Ragazzi, ne manca uno solo Il controllo destra, l'abbiamo vinto Fre, tieni la posizione No, no, no Tieni la posizione e Fre Non lo facciamo entrare Ok Il tato, il tato È là dietro, Fre È là dietro, là dietro Eccolo là Lì dietro, Fre Tanto muore, Pippo Muore, Pippo Tanto muore Mi muovo Mi muovo Avete vinto, avete vinto Avete vinto, bravissima, ragazzi Bravi, ragazzi Bellissima partita Bellissima partita Abbiamo vinto Questa guarda è a carico, mi ha gasato Sì aspetta 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 fammi farlo sotto Sì aspetta